Perchè lo chiede? Siamo fermi qui da tre giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vita. Dai, ce lo do bene, potete informare. Ok, una prima alle formelle. Ok, perfetto, grazie. A rapporto. Ehi, ragazzi. Cos'hai per noi? Niente incarichi, solo a rapporto da Isaac. Entrambi? Sì. C'è più gente del solito. È successo qualcosa. Cerchiamo Isaac. Prima dobbiamo pensare a me. Dove avete visto? Buizioni, polvere da faro, carlo pure. Ehi, scherziate, perché c'è così poca benzina? Esatto. Che credevi? Questi camion non vanno, vado a casa. Poi è finita la pregua e sono tornati lì. Adesso, io non ce l'avrei fatto. Pensa di trovarti in mezzo a questi quali di me. Non capisco. Speriamo. Dov'è Isaac? È dentro. Entrate. Grazie. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Eh, non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. È il prezzo per essere il migliore. Ci vediamo. Ciao. Entrate. Grazie. It Yale. It Yale. Grazie per la visione!